Signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo, ben ritrovati qua nel disordine solito, usuale, consueto e, come sempre, a voi ben noto della mia libreria. Allora, 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 cari signori, cari signori, cari signori, il mio ghignante faccione forse vi farà presagire qualche cosa di particolarmente divertente. Allora, allora, se avete ben presente, quando parlo dei nostri cari armati usando questo libro si punta sempre, giustamente, l'occhio, si focalizza l'attenzione sui problemi dei nostri cari armati. Fragili, meccanicamente poco affidabili, problematici a livello di manutenzione e quant'altro così e soprattutto azzoppati da pessimi motori, i motori diesel Fiat che non furono mai all'altezza della situazione, che non furono mai all'altezza del bisogno, sfiatati, sottopotenziati. Intelligentemente noi pensammo al diesel come soluzione ideale per i motori da cari armati e il futuro ci avrebbe dato ragione, questo è vero, ma, 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 i diesel della Fiat erano decisamente motori che andavano dal mediocre al pessimo, ok? Ripeto, sottopotenziati, sfiatati, poco, diciamo, poco potenti, insomma, poco adatti all'uso sui cari armati, ma, 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 non è che gli inglesi fossero messi meglio, perché quando si parla per i primi due o tre anni di guerra, quando si parla di Atene che piange e Sparta che non ride, si possono benissimo pensare ai cari armati italiani e a quelli inglesi. Eh già, 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 signori, perché i britannici, il British Army, l'esercito inglese, aveva dei grossi, grossi, grossi problemi con i suoi carri armati. Perché? Perché a parte il, come dire, il Matilda, che pur lentissimo, pur, come dire, poco mobile, perché era decisamente pesante come carro e armato soltanto con il 40 mm, il Matilda si guadagnò giustamente la nomea di Signora del Deserto, perché, effettivamente, i Matilda ci fecero un derettano tanto durante l'operazione Compass, anche se alla fine erano praticamente tutti cotti, diciamo, alla fine di Compass, i Matilda erano tutti cotti per gli sforzi meccanici a cui erano sottoposti. Ma, ma, il problema, allora, mezzi poco affidabili, mezzi quasi inutili, i mezzi corazzati britannici. Mezzi corazzati che per il primo, per i, diciamo, dal 40 fino al 42 circa, quando arrivarono gli Sherman e i Grant di produzione americana, diciamo che i britannici non è che avessero dei mezzi così all'altezza della situazione, perché tra problemi alle sospensioni, problemi nel treno di rotolamento, delicatezza degli organi interni, una pessima sistemazione dell'equipaggio, una pessima sistemazione dell'armamento, insomma, insomma, gli inglesi non è che fossero messi molto bene. Difatti gli inglesi riuscirono a progettare il più, quello che è molto probabilmente il più ignobile carro armato di tutti i tempi, ovvero sia il Covenanter, cioè un carro armato dove l'innesto della retromarcia prevedeva una manovra da 20 minuti usando un apposito martello tenuto a fianco del guidatore, insomma, dovrò parlare anche del Covenanter, però in questo caso qui io parlerò del principale tallone d'Achille dei carri britannici, ovvero sia questo, eccolo qua. Questo che vedete è, allora, il signore che vedete in foto è il futuro generale Henry Hepp Arnold, l'uomo che guiderà la ottava Air Force dell'aviazione dell'esercito degli Stati Uniti d'America durante l'offensiva diurna contro la Germania, un grande dell'aviazione americana. E quello di fianco a lui è il primo esemplare del motore Liberty L12, il primo motore aeronautico prodotto in America, il motore aeronautico Liberty L12. Siamo nel 1915, questo motore, quello che avete visto in foto, questo motore qua, fu costruito su licenza in Gran Bretagna dalla Nuffield, definito Nuffield Liberty e usato anche come motore per carri armati. molto probabilmente il più ignobile motore mai montato su un tank, il più ignobile motore mai costruito per i carri armati. Un motore che aveva, allora, un motore, ripeto, il Nuffield in Liberty L12, nacque negli anni dieci, nacque durante la Grande Guerra, 1915 circa, ok? La sua concezione praticamente non cambiò praticamente mai, non fu mai modificato. I motori fabbricati dalla Nuffield su licenza per l'uso sui carri armati erano qualcosa di osceno. E spero che la parola osceno sul vocabolario non mi faccia causa quando la paragono al Nuffield Liberty, perché il Nuffield Liberty era veramente pessimo. Allora, se noi ci lamentiamo, giustamente, degli scarsi motori dei nostri carri M, gli inglesi molto probabilmente sarebbero dovuti andare in massa a casa del signor Nuffield, del padrone della fabbrica di questi motori, e fracassarlo di botte, perché era veramente qualche cosa di ignobile. Penso che il Nuffield Liberty sia il più ignobile motore per carri armati mai prodotto nella storia. Perché? Allora, essendo molto vecchio come concezione, come progettazione, il Nuffield Liberty aveva alcune antipatiche caratteristiche. 1. Nei carri armati si surriscaldava, si surriscaldava estremamente. 2. Per la sua architettura, diciamoci la verità, primitiva, era soggetto a gravi perdite d'olio che causavano un consumo di lubrificante esagerato. E vi lascio immaginare cosa poteva succedere nel deserto, quando tu praticamente ti consumi un litro d'olio al chilometro, o quasi. E credo di non esagerare neanche troppo. Oppure, peggio ancora, peggio che peggio, il surriscaldamento a cui andava sottoposto il Nuffield Liberty. Ripeto, un motore nato per l'impiego aeronautico che venne, si può dire, praticamente montato pari pari sui carri armati, senza o quasi le modifiche per l'uso terrestre. Quindi vi lascio immaginare i problemi di surriscaldamento. Un conto è quando fai le manovre in Inghilterra, dove il clima, se vogliamo, consente un pochino di soprassedere a certi problemi, ripeto, di surriscaldamento. Tenete presente, allora, da appassionato di moto d'epoca, vi dico semplicemente questo. Avete presente le vecchie bicilindriche e tricilindriche inglesi, Norton, Triumph e BSA? Ok. In Inghilterra andavano più che bene. A Riccione si cuocevano. Sì, sì, perché erano studiate, si può dire, la pessima qualità dei materiali con cui erano costruiti i motori delle moto inglesi d'epoca, parlo delle moto anni 50 e 60, diciamo che arrivare con una moto inglese in estate a Riccione equivaleva infilarla in un forno, col risultato che faticava estremamente, grippaggi, blocchi, pistoni saltati, surriscaldamento, bronzine fuse, insomma, vi lascio immaginare. Perché? Perché erano moto non pensate per il clima mediterraneo. Pare una cazzata, ma è così. Esatto. Il Nuffield Liberty più o meno era l'equivalente, era l'equivalente per i carri armati. E vi lascio immaginare che cosa poteva succedere ai carri armati inglesi equipaggiati col Nuffield Liberty nel deserto libico. Eeeh, vi lascio immaginare, cari signori, vi lascio immaginare. Allora, uno dei carri che montava il motore Nuffield Liberty era questo, ovvero sia il Chrysler Tank A13. Eccolo qua. Ovvero sia uno dei principali avversari dei nostri carri M nel deserto libico. Allora, mettiamola così. Poteva essere un buon mezzo il Chrysler Tank, ma aveva degli enormi problemi. Praticamente operò il Chrysler Tank A13 con la settima divisione corazzata fino al tardo 1941. Era assai veloce, aveva un ottimo treno di rotolamento, cioè aveva rispetto ai nostri carri M, questo appariva quasi un'astronave, ma aveva dei grossi 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 problemi. Perché? Anche se era un mezzo veloce, anche se era un mezzo molto agile, il motore signori, il Nuffield Liberty, con il suo cambio primitivo, con la sua concezione preistorica, non riusciva a tenere, a reggere il clima del deserto libico. E ripeto, perdite d'olio, perdite di liquido refrigerante, guarnizioni bruciate, valvole saltate, l'albero motore che sbarellava ogni 3x2 quando meno te l'aspettavi. I Chrysler Tank inglesi, ve lo faccio vedere di nuovo, i Chrysler Tank equipazzati col Nuffield Liberty furono mezzi di poco superiori ai nostri carri M. Più veloci, più agili, ma altrettanto meno affidabili e soprattutto altrettanto penalizzati da un motore osceno. Allora, se il motore Fiat per i carri armati poteva essere definito mediocre, i giudizi sui motori Nuffield per i carri armati inglesi andavano dallo sceno al rivoltante, al criminale. Ecco, perché si trattava veramente di un motore che non era più al passo coi tempi, si trattava di un motore che ormai mostrava tutta la anzianità, la vecchiaia della sua della sua concezione. Ripeto, un motore nato per gli... allora, ricordiamoci una cosa, tutti gli alleati usarono molto spesso motori ex aeronautici per i loro carri armati, lo Sherman con il motore radiale, anche il Lee Grant aveva il motore radiale, il motore Comet che era per i carri armati inglesi di seconda e terza generazione, che era né più né meno un motore Merlin depotenziato e adattato per l'uso dei carri armati, che anche quello lì diede parecchi problemi nella sua fase di sviluppo, ma che alla fine del suo sviluppo il Comet divenne il propulsore dell'eccellente carro Comet e soprattutto del fantasmagorico e fantastico Centurion, molto probabilmente il miglior mezzo corazzato di tutti i tempi, a mio modesto e personale giudizio, perché il Centurion fu finalmente il primo mezzo corazzato, il primo carro armato da combattimento di concezione moderna e soprattutto riuscito come progettazione e fabbricazione creato in Inghilterra, perché prima lasciamo perdere, insomma, se il Chrysertank A13 era un carro appena superiore ai nostri carri M, vi lascio immaginare cosa poteva essere quell'aborto del Covenanter, ecco, e gran parte dei problemi che affliggevano i carri armati inglesi di prima e seconda generazione, ovvero sia il Matilda, i Crusader, il Valentine e anche lo sventurato Centaur, erano tutti dovuti essenzialmente una cosa, alle pessime qualità del motore Nuffield. Perché gli inglesi si intestardirono a continuare a costruire carri così scadenti? Qui giunge in aiuto l'amico Gianluca Bertozzi che ha spiegato come l'impianto industriale britannico non poteva fisicamente fermare le linee di produzioni per ripartire a progettare di nuovo qualche cosa da capo. Bisognava andare in guerra con quello che c'era, bisognava produrre quello che c'era, bisognava, come dire, cercare di migliorare quello che c'era. Il Churchill avrebbe potuto essere un buon carro armato, considerato il fatto che era molto agile, che aveva eccellenti prestazioni fuoristrada e che funzionava abbastanza bene, no? Ma la sua architettura impediva di montare una torretta armata con un cannone più potente del 57 mm. Eh, in Italia, in Italia il Churchill però diede ottime prove perché? Perché riusciva ad arrampicarsi dove altri carri armati fallivano miseramente. Ma, ahimè, questo è un altro discorso. Dicevo, il motore Nuffield Liberty fu quello che azzoppò realmente tutti o quasi i carri armati britannici di prima generazione. Un motore superato, un motore inaffidabile, un motore arcaico, che non era più all'altezza delle necessità belliche. tutto qui. Quindi, se noi abbiamo molto da lamentarci per quello che riguarda i nostri carri armati, gli inglesi non è che fossero messi molto meglio perché, ripeto, trovandosi in piena crisi dottrinale, se vogliamo, sull'uso e sull'impiego dei carri armati, si trovarono divisi, si ritrovarono con i carri armati da supporto all'affanteria e con i carri armati i cosiddetti incrociatori, i cruiser più veloci, più leggeri, che dovevano essere quelli le punte di lancia che avanzavano, mentre i carri per fanteria dovevano supportare l'avanzata della fanteria appiedata. Una concezione che avrebbe avuto grande successo nella prima guerra mondiale, ma qui si trattava della seconda. E si doveva affrontare chi? Si doveva affrontare la Panzerwaffe, si dovevano affrontare i tedeschi che avevano rivoluzionato le tattiche della guerra corazzata, impiegando i propri carri armati come arma di rottura senza la distinzione tra cruiser e infantry tank. In guerra gli inglesi non riuscirono per anni, cioè andarono avanti per tentativi cercando di sviluppare nuovi carri armati, ripeto, i carri cruiser, i carri crusader, che diedero pessime prove di sé anche e soprattutto per colpa, per colpa del motore Nafield Liberty. Il terrificante Covenanter, signori io dovrò fare un video sul carro Covenanter, ragazzi, cioè ripeto, un carro armato che ci volevano 20 minuti per innestargli la retromarcia a colpi di martello, martello che faceva orgogliosa mostra di sé nella parete a fianco del posto del guidatore, cioè, insomma, ecco, vabbè, ripeto, gli inglesi si trovarono in difficoltà, dovevano continuare a costruire carri armati perché ne avevano bisogno, i loro carri armati erano oggettivamente tra il mediocre e lo scadente, più o meno all'altezza dei nostri carri M, fortuna per loro che gli americani nel 1942 immisero in servizio gli Sherman e dopo la caduta di Traubrook ne inviarono in massa in Egitto. E furono, e fu grazie agli Sherman, ma anche agli M3 Grant, o Lee, che dir si voglia, che riuscirono a vincere a El Alamein, tutto qua. E ripeto, il principale colpevole del disastro del carro, ah, dimenticavo poi, l'unico carro inglese decente, se vogliamo, fu il Valentine, che però anche lui era penalizzato da questo carciofone di motore qua, che anche il Valentine ebbe i suoi bravi problemi, pur essendo un mezzo accettabile, se vogliamo. Insomma, il motore Nuffield Liberty L12, il peggior motore per carri armati di tutti i tempi. Si surriscaldava, era fragile, era inaffidabile, non sopportava il caldo, aveva problemi di raffreddamento enormi, pisciava olio, insomma veramente consumava, si può dire realmente, un litro d'olio al chilometro. E vi lascio immaginare. Insomma, un motore pessimo, che però alla fine della seconda guerra mondiale fu pensionato senza troppi rimpianti e sostituito da quel grande motore che fu il comet, il derivato terrestre del fantasmagorico Rolls Royce Merlin. Anche le prime versioni del comet, del motore comet, ebbero dei problemi, perché, insomma, logicamente, passare, cioè trasformare un motore d'aereo in motore per carri armati comporta tutta una serie di problematiche, la curva di coppia, l'apertura più o meno brusca del gas, le vibrazioni, insomma, non è facilissimo, si può fare, ma occorrono prove, occorre pazienza, occorre veramente un lavoro ingegneristico eccezionale per fare un lavoro di quel tipo. Ma gli inglesi a fine guerra ci riuscirono, con l'eccellente carro comet, le versioni più affidabili del comet, resero affidabile, viva dio, anche il Cromwell, che era pur sempre un carro molto problematico, e alla fine della fiera, alla fine della guerra, il motore comet, il motore Rolls Royce comet, equipaggiò lo straordinario, il superlativo, l'eccezionale carro Centurion. Ripeto, a mio personale giudizio, molto probabilmente uno dei migliori mezzi corazzati di tutti i tempi, se non il migliore in assoluto, tant'è che è rimasto in servizio, anzi credo che alcuni Centurion da recupero siano ancora in servizio in Israele, per dire. Tutto qua. Quindi, cari signori, se la Sparta se l'Italia spartana piange, l'Atene inglese ha tutt'altro che da ridere quando si parla di motori per carri armati. Il Nuffield Liberty L12, l'aborto, l'abominio, la disgrazia, la sventura, la maledizione, l'ignobiltà, la schifezza fatta motore per carro armato. Pure peggio dei motori Fiat, il che è tutto dire. Quindi, cari signori, ripeto, scusate l'ironia, scusate le facce, scusate le battutacce, ma quando si tratta di parlare, di parlare male, di aborti meccanici, sapete bene che io mi diverto come un pazzo e spero che vi divertiate anche voi. Quindi, cari signori, io vi ringrazio come sempre per l'attenzione, come sempre vi ringrazio per i commenti che metterete a questo video, perché come sempre voglio che commentiate, voglio che mi facciate sapere le vostre opinioni e come sempre arrivederci al mio prossimo video e soprattutto, ancora, di nuovo, come sempre, ciao!